Sì, faccia con comodo Posso? Un attimino? Sì, prego Ritorno dalla pesca a tutto questo Pensa come siamo stati C'è anche una novità Tris di verdure Sublime Davvero buono Oppure un classico Big Mac Che dici, poncio? Che dici? Un Big Mac me lo metto? Fattere piemontese Prego, vorrei aggiornare No, un piemontese meno medio, per favore Un pallino, un palladino normali? Sì, perché come ci sono? Medio, grande? Medio Da bere? Coca Buoni? Basta così, grazie Un attimo 835 al secondo posto Prima Come siete cari Quanto è? 835 Ma fa un saluto dai Dal Mac Drive Quasi tutto È un po' troppo caro Questo Mac Drive 10 euro di gasolio Calcio Buon appetito a tutti Buon appetito a tutti I 15 Tu Buon appetito a tutti Buon appetito a tutti